Buonasera a tutti. Non sto a dirvi quanto sia un'emozione parlare di Dante in questo luogo, lo immaginate tutti e quindi è inutile che lo ripeta. Dante è uomo del suo tempo, fra i tanti aspetti che immergono Dante nella sua epoca e ne fanno un uomo del Medioevo e del Medioevo comunale e della Firenze medievale, quello che abbiamo scelto di mettere in luce questa sera è l'attività politica di Dante. Io partirò, e voi mi scuserete, dalla cosa più banale possibile, i primi versi della commedia. Sapete tutti come comincia la commedia e tuttavia mi scuserete se vi cito questi versi che conoscete a memoria perché è proprio da queste parole che partiremo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Dante comincia la commedia dicendo mi è capitata questa cosa, ero a metà della mia vita e mi sono perso, mi sono perso, non trovavo più la strada, ero al buio, in un bosco buio. E naturalmente da sempre i commentatori si interrogano su cosa voleva dire Dante, non c'è dubbio, sono tutti d'accordo che c'è una crisi morale, che Dante parla di un momento di crisi gravissima che ha davvero attraversato nella sua vita. Cosa sia poi questa crisi? Beh su questo ci sono le ipotesi più diverse. C'è una crisi morale in senso generico, il dubbio religioso, un momento di oscillazione della fede. Poi siccome nel purgatorio Beatrice rimprovera Dante a un certo punto, anche lei riprende questo tema, tu hai sbagliato strada a un certo punto, ti sei traviato e allora c'è anche chi interpreta questo traviamento di Dante nel senso in realtà più privato della fine dell'amore per Beatrice, del fatto che dopo che lei è morta lui per un po' ha pensato ad altre e non più a lei. Però in realtà qui siamo davanti a qualcosa di più drammatico di così, di più drammatico proprio dal punto di vista non solo della vita ma dell'anima di Dante. Perché? Perché c'è un altro passo cruciale nel primo del purgatorio, quando Virgilio e Dante arrivano all'ingresso del purgatorio e lì c'è una folla di anime che aspettano di entrare e tutti questi che sono lì, che si affollano, si accorgono che Dante respira, è ancora vivo. Brusio di smarrimento fra tutta questa folla di anime e Virgilio si assume la responsabilità di spiegare e dice no no, è vero, è vero, è vivo questo, è vivo, non è ancora morto ma c'è andato vicinissimo. Questi non vide mai l'ultima sera, cioè non è ancora arrivato il suo ultimo giorno, ma per la sua follia le fu sì presso, c'è stato così vicino, che molto poco tempo a Volger era, cioè mancava veramente poco, che morisse. Poi anche qui naturalmente nel commentare si dice sempre ma sta parlando della morte spirituale o sta parlando della morte vera, fisica. Se sta parlando della morte spirituale vuol dire Dante sta dicendo per bocca di Virgilio, io in quel momento stavo per dannarmi l'anima. E se sta parlando della morte vera allora uno si chiede ma cosa vuol dire? Vuol dire che ha avuto una tentazione del suicidio a un certo punto, uno esita perfino a suggerirlo come ipotesi, perché il suicidio nell'universo morale di Dante è una colpa talmente grave, perché vuol dire che sei disperato, che non speri più che Dio ti possa salvare. Per loro è la colpa più grave di tutte e quindi uno esita perfino a suggerirlo, però di fatto Virgilio sta proprio dicendo questo qua per poco moriva. Parlandone con qualcuno di recente qualcuno mi diceva ma forse è perché gli volevano fare la pelle? Può anche darsi, può anche darsi che sia questo che lui intende. Però insomma Dante mette insieme una serie di discorsi sul fatto che lui nel momento in cui ha avuto la sua visione, ha avuto il suo sogno, è andato nell'aldilà, beh quello era il momento più tragico e più buio della sua vita, si era perso in un bosco buio. E quando è che gli è successo tutto questo? Noi in realtà lo possiamo datare con la massima precisione, perché il viaggio nell'aldilà è datato. Dante dissemina tutta una serie di indizi che permettono di capire con precisione in quali giorni veri della vita vera, del tempo vero nostro, in quali giorni lui è andato laggiù. Intanto siamo nel mezzo del cammin di nostra vita, come faceva Dante a sapere quanto dura la vita non sapeva quanto sarebbe durata la sua, ma il Salmo 89 dice che l'uomo è destinato a vivere 70 anni. E quindi Dante sta dicendo che questa cosa gli è successa quando aveva 35 anni. E Dante ha compiuto 35 anni verso la fine di maggio del 1300. Noi non sappiamo il giorno preciso in cui è nato, sappiamo che era dei gemelli però, e comunque siamo alla fine di maggio. Come mai Dante che scrive queste cose anni dopo, lui comincia a scrivere queste cose sei o sette anni dopo, d'accordo? E come mai colloca con tanta precisione in quel momento della sua vita il viaggio nell'oltretomba? Ci sono in realtà una serie di motivazioni. Una è il fatto che il 1300 è l'anno del giubileo, è l'anno in cui Papa Bonifacio Ottavo si è inventato per la prima volta nella storia questa cosa che poi si è via via, oso dirlo, banalizzata. Sì, oggi il giubileo muove ancora ed emoziona milioni di persone, però non è più una cosa paragonabile all'emozione che ha provocato la prima volta. Quando Bonifacio Ottavo ha avuto per la prima volta l'idea del giubileo, anche allora milioni di persone con i mezzi di allora sono andate a Roma e quasi sicuramente ci è andato anche Dante. La prova provata che ci sia andato non ce l'abbiamo, però al di là del fatto che ci andavano tutti, figuriamoci se non ci andava lui che stava a Firenze a due passi ed era ricco. Ma poi c'è un indizio almeno che di solito si considera e che Dante descrive il ponte di Castel Sant'Angelo dove per l'enorme folla dei pellegrini hanno istituito il doppio senso di circolazione pedonale. Se vai in un senso stai a destra, se vai nell'altro senso stai a destra. Ecco, o meglio stai anche tu a destra. E quindi questa cosa la vista, di solito pensiamo da come la descrive la vista con i suoi occhi. Quindi il 1300 è l'anno eccezionale del giubileo. Poi c'è anche un'altra cosa, c'è un passo del profeta Isaia che non sempre viene citato, ma che certamente invece dobbiamo citare a proposito di questa sua scelta, di andare a bussare alle porte dell'inferno nel mezzo del cammin di nostra vita. Perché il profeta Isaia e Dante, che come ogni intellettuale della sua epoca conosceva benissimo la Bibbia e più di molti altri la conosceva a memoria, aveva però un particolare amore per i libri profetici, per Isaia, per Geremia. Il profeta Isaia dice, ve lo cito in latino, ego dixi, indimidio vierum meorum, vadam ad portas inferi. Io ho detto, alla metà dei miei giorni andrò alle porte dell'inferno. È chiaro che chi scrive nel mezzo del cammin di nostra vita ha in mente questo passo. E dunque, dunque, siamo davvero nel 1300, benissimo. Siamo nel 1300 quando Dante a maggio compie 35 anni. Siamo però a dire la verità qualche settimana prima del suo compleanno. Sempre per la serie degli indizi che Dante ha disseminato nella commedia. Nel ventunesimo dell'inferno dice, oggi sono esattamente 1266 anni dalla morte di Cristo. Esattamente oggi. E in che giorno è morto Gesù Cristo? Con certezza non lo sa nessuno, ma la tradizione medievale sulla base dei padri della Chiesa identificava un giorno. Il 25 marzo. Il 25 marzo, cioè in corrispondenza esatta della sua incarnazione. E poi, e poi nel purgatorio Dante fa anche un accenno criptato al giubileo di Bonifacio VIII. Perché lì gli dicono, guarda, di solito prima di entrare in purgatorio bisogna aspettare un sacco di tempo. C'è chi aspetta anni. Ma da tre mesi fanno entrare tutti. E da tre mesi è cominciato il giubileo di Bonifacio VIII. Proclamato a febbraio, ma retroattivo dal 25 dicembre 1299. Quindi, insomma, non ci sono dubbi. Il viaggio di Dante si svolge intorno al 25 marzo dell'anno 1300. Allora, a questo punto però nasce spontanea la domanda. E Dante, cosa stava facendo in quel momento? Visto che ci dice, mi ero perso in un bosco buio, e Virgilio dice, questo qua si stava dannando l'anima, e forse rischiava anche la pelle, è andato vicino a morire, e Dante dice, avevo perso la strada, e Beatrice gli dice, ti eri traviato. Cosa stava facendo in quel momento? La risposta è, era immerso nella politica. Era immerso nella politica fino al collo, ed era a pochissimi giorni, da poche settimane, dall'arrivare al vertice della sua carriera politica. Cioè dall'arrivare all'incarico di priore, che è l'incarico più importante che ci fosse nel comune di Firenze, ed è l'incarico più importante che Dante a un certo punto ha avuto, nell'estate del 1300. Allora ecco, io ho pensato che analizzare l'attività politica di Dante sia una cosa che ha senso fare anche tenendo conto che a me sembra che lui poi anni dopo abbia detto, quando facevo quelle cose mi stavo dannando l'anima. Cos'è che stava facendo? Cosa significava fare politica nella Firenze di Dante? Prima cosa, non era un mestiere per una casta. Era un'attività part time che qualunque cittadino poteva svolgere, purché avesse un minimo di ambizione o di mezzi, perché il sistema politico fiorentino coinvolgeva a turno un'enorme quantità di cittadini. Le decisioni venivano prese da una serie di consigli, c'era tutta una trafila, qualunque provvedimento doveva essere provato da non meno di cinque consigli. Consiglio dei cento, consiglio speciale del Capitano del Popolo, consiglio generale del Capitano del Popolo, consiglio del Podestà, consiglio generale del Comune. In tutto 676 cittadini. A dire la verità noi abbiamo molte prove che non ci andavano sempre tutti. L'assenteismo era piuttosto alto, ma comunque in ogni dato momento 676 cittadini avevano diritto di sedere, di parlare, di votare in uno dei consigli attraverso cui passavano tutti i provvedimenti e venivano rinnovati ogni sei mesi. Di conseguenza è chiaro che nel giro di pochissimi anni molte migliaia di cittadini accedevano momentaneamente, per un certo periodo, a incarichi di governo. Poi al vertice c'erano i sei priori, i quali venivano rinnovati ogni due mesi. Ecco, noi abbiamo oggi l'ossessione della continuità del governo, che è diventata una cosa che automaticamente consideriamo assolutamente importante per l'efficacia dell'azione politica e può darsi che nel nostro sistema sia così. A loro della continuità non importava assolutamente nulla, anzi al contrario, volevano evitare che le persone rimanessero troppo a lungo a occupare un incarico. I priori che concentrano più potere di qualunque altro gruppo o organismo siedono per due mesi. E Dante è stato priore. Allora anche lì chiunque poteva diventare priore? Beh, qui, calma, un conto è entrare in un consiglio dove ci sono centinaia di membri, un conto è arrivare a essere priore. Un conto è sedere in consiglio una volta ogni tanto e un altro conto è quello che succede a Dante. Perché Dante per cinque o sei anni è quasi ininterrottamente membro di un consiglio o di un altro. La documentazione è lacunosa, ci sono periodi in cui non abbiamo verbali, ma nel periodo in cui abbiamo i verbali Dante c'è sempre, c'è sempre e si alza a parlare spesso e volentieri. Allora non è soltanto uno di quei cittadini part time che ogni tanto capita che fanno quell'esperienza. Lui in quegli anni ci teneva ed era una persona, come dire, abbastanza ammanicata da poter effettivamente essere continuamente cooptato, nominato, eletto in uno o nell'altro dei consigli. Esci da uno, i prossimi sei mesi entri in un altro. Dunque Dante faceva politica effettivamente e per fare politica bisognava essere qualcosa di più di un comune cittadino. Per fare politica con frequenza e regolarità ci volevano alcune caratteristiche. Mi sbrigo in fretta della più banale, bisognava avere dei mezzi. Anche allora ci volevano dei mezzi per fare politica. Non avrei neanche menzionato, se non fosse che c'è della biografia di Dante un aspetto curioso, su cui mi fermo un attimo così, proprio per il gusto di parlarne. Dante viveva di rendita, il padre e il nonno avevano fatto i soldi, trafficando e prestando usura e ne avevano fatti abbastanza. Dante non era ricchissimo ma viveva bene, di rendita, aveva dei poderi dei contadini che gli pagavano l'affitto. Faceva quello che gli piaceva, non ha mai lavorato in vita sua per quello che ne sappiamo. Aveva un fratello, Francesco, che invece ha lavorato. Francesco per tutta la vita continua a trafficare, compra, vende poderi, presta soldi, ne prende a prestito, investe. Dante no. Ci sono però molti documenti in cui Dante e Francesco prendono soldi in prestito. E qui, spiace dirlo, ma l'interpretazione di questi documenti è sempre stata molto così, un po' ingenua, ecco, diciamo così. E cioè si diceva, vabbè, si vede che sono in difficoltà economiche, prendono soldi in prestito e quindi si è creata tutta una specie di mito del fatto che Dante in realtà era mezzo rovinato, era povero addirittura. Ora io chiedo a voi, se vi parlano del tale uomo d'affari, o fratello di un uomo d'affari, ecco, che ha appena avuto un mutuo da 500.000 euro, vi viene da dire, eh si vede che è povero effettivamente, certo, si vede che è in crisi, ecco. Dante e il fratello a un certo punto hanno un mutuo di 480 fiorini, che sono grosso modo mezzo milione di euro. E quindi questi mutui non vogliono dire che non sapevano come campare, ecco, vogliono dire qualcos'altro. Quando arriva il mutuo da mezzo milione di euro, l'anno che Dante era membro del Consiglio tale e l'anno prima che andasse ambasciatore a Roma e che poi diventasse priò, ecco, in altre parole, i soldi ci volevano per fare politica e per poter fare politica voleva anche dire essere in grado di trovarli i soldi quando ne hai bisogno. Poi cos'altro era necessario? Beh, ci voleva un certificato di purezza ideologica, bisognava essere guelfi. Firenze, dopo che per generazioni guelfi e ghibellini si erano scannati, al tempo di Dante era guelfa senza discussione. La lotta fra guelfi e ghibellini a Firenze è finita. Dire ghibellini a Firenze al tempo di Dante è come dire comunisti in America oggi. Una volta c'erano, ma adesso non ci sono più. Però c'è il partito guelfo, parte guelfa, accampato nel suo palazzo al centro di Firenze e dal palazzo di parte guelfa i notabili del partito sorvegliano, vigilano sull'ortodossia dei concittadini e fanno le liste, le liste di quelli da tenere d'occhio, le liste dei sospetti di ghibellinismo. Capite il potere che ha un partito il quale è in grado di dire quello lì, quello lì mi sa che è gli puzza di ghibellinismo, non deve fare carriera politica. E dunque Dante era guelfo, certo, è evidente che Dante era guelfo, però anche qui a costo di investire un pochino di tempo in questa cosa è interessante vedere come poi quando uno descrive la propria vita a posteriori tende a, come dire, a lisciare le irregolarità, a presentare sempre un quadro un po' più lineare di quello che è in realtà. Dante era guelfo, certo, lui e la sua famiglia, certo, gli alighieri, grandi guelfi da sempre. Lui se lo fa dire addirittura da farinata degli uberti. Nel decimo dell'inferno incontra l'arci nemico, il grande capo del partito avverso, il grande capo dei ghibellini, morto ormai da tanto tempo, e anche qui ve lo ricordate tutti, farinata, che appartiene alla famiglia che pretende di essere la più nobile di Firenze, si accorge che questo qua che sta passando è un fiorentino, lo sente dall'accento, quindi gli vuol parlare, però non sa chi sia e glielo chiede. Ricordate cosa gli chiede farinata? Non gli chiede chi sei, gli chiede come nasci, chi fuori maggior tui? E segue un dialogo meraviglioso in cui Dante dice, ah io glielo ho detto, glielo ho detto chi era mia famiglia, chi sono i miei antenati, e farinata li conosceva. Infatti farinata dice, quando sente Dante che gli dice chi sono i suoi parenti, farinata, ve lo ricordate, aggrotta le ciglia, e poi gli dice, ah sì sì, li conosco, erano dei miei nemici, e io li ho cacciati dalla città due volte, per due fiate li dispersi. In altre parole, Dante sta dicendo, io sono di una famiglia che più guelfa non poteva essere, il grande capo dei ghibellini li conosceva benissimo, li considerava dei nemici, e per due volte sono andati in esilio quando i guelfi da Firenze hanno dovuto andare via. Dante si sta dando una patente di guelfismo a se stesso, a suo padre, a suo nonno. Notate però una cosa che a me incuriosisce molto, siccome per lo storico sapere qual era davvero la famiglia di un personaggio è molto importante, e Dante della sua famiglia in certi momenti parla, ma qui non ci dice cosa ha detto a farinata. Dante è così pronto nella commedia a riportare il suo discorso diretto, fra virgolette, no? Qui no. Qui ci dice, ah io gliel'ho detto chi erano i miei, e lui li conosceva. Piacerebbe molto sapere che cosa avrebbe detto davvero Dante a farinata, se l'avesse davvero potuto incontrare. Noi ci dobbiamo fidare, però andiamo a vedere. Farinata ha cacciato i guelfi da Firenze due volte, vero. La prima volta negli anni 40, quando c'era ancora il grande imperatore Federico II, grande protettore dei ghibellini, e i ghibellini erano in auge dappertutto, e negli anni 40 i guelfi da Firenze se ne sono andati. E il nonno Bellincione e i suoi figli, tra cui Alighiero, padre di Dante, in effetti in quegli anni li troviamo a Prato. E quindi i conti tornerebbero. La prima volta che i guelfi se ne sono andati da Firenze, anche loro se ne sono andati. E poi? E poi è venuto nel 1250 la morte dell'imperatore Federico, e il collasso del partito ghibellino, e a Firenze sono tornati al potere i guelfi, e ci sono rimasti per dieci anni, e poi è arrivata, con tanti fiorentini qui, è inutile perfino dire, nel 1260, la catastrofe di Montaperti, e il regime guelfo di Firenze è collassato, e sono tornati i ghibellini, e per la seconda volta Farinata ha cacciato dalla città i suoi nemici. E quindi anche gli alighieri. Certo, questo è quello che gli fa dire Dante. È vero. Beh, i guelfi sono rimasti fuori da Firenze fino al 1266, quando ricordate è arrivato Carlo D'Angio, battaglia di Benevento, i guelfi tornano a prevalere in tutta Italia. Dopo il 66 gli esuli tornano. Una delle cose che fa a Firenze il nuovo governo guelfo è, senza troppa fretta devo dire, risarcire quelli che hanno subito dei danni durante il periodo in cui prevalevano i ghibellini. E negli elenchi di cittadini guelfi che erano esuli, e poi sono tornati e hanno trovato la casa rovinata, c'è anche un cugino degli alighieri, del bello, che poi qualcuno si ricorderà, compare anche nella commedia, ma questa è un'altra storia, e la sua casa ha subito dei danni. Quindi torna tutto, fantastico, torna tutto. La famiglia di Dante è davvero andata in esilio anche la seconda volta. Ma voi capite che cosa è che non torna? Questo è uno di quei casi in cui ha lezioni ai miei studenti. Io direi, ragazzi, guardate che le date certe volte bisogna saperle, non per spirito nozionistico, ma perché poi fai due conti. I guelfi sono tornati dopo il 1266. Il cugino Geri del Bello è tornato dopo quella data, prima era a Bologna in effetti. Ma Dante quando è nato? Dante è nato nel 1265 ed è nato a Firenze. Lui quello lo dice chiarissimamente più volte, non c'è il minimo dubbio, è nato in città. Ergo il cugino era nato via e la sua casa gliel'hanno rovinata. Ma il papà Lighiero invece era a Firenze, tranquillissimo, anche sotto dominio ghibellino. E la sua casa non gliel'ha toccata nessuno. E però poi Dante queste cose non ha mica piacere di ricordarle. Dante ha piacere che si sappia che loro sono invece guelfi, ortodossi e integerrimi. E c'è anche un altro motivo per cui ha bisogno di dirlo. Quando scrive il canto di Farinata, siamo verso il 1307-8 forse, insomma è in esilio ormai da parecchi anni. E nei primi anni dell'esilio i guelfi bianchi, Dante e la sua corrente, cacciati dai loro nemici, i guelfi neri, perché era tutta una cosa fra guelfi, i guelfi bianchi nei primissimi tempi dell'esilio si sono trovati fuori dalla città, in tanti, più di 600 cittadini cacciati dalla città, in tanti, bene armati, decisi a fargliela pagare ai neri che hanno osato buttarci fuori. Ah ma noi torniamo, noi torniamo con la forza. Per farlo sarà utile metterci d'accordo con gente che all'esilio ormai ci è abituata e che è da tempo che si prepara a tornare con la forza, i ghibellini. I ghibellini sono fuori da un sacco di tempo ma non hanno mai rinunciato a tornare dentro. In altre parole, quello che succede è che questi guelfi bianchi buttati fuori da Firenze, la prima cosa che fanno e prendere contatti con i ghibellini per vedere se si può mettersi insieme e rientrare con la forza in città. Ed è una cosa che oggi non stupisce più in realtà perché oggi abbiamo capito che queste parti erano ideologiche soltanto per finta. L'ideologia serviva per fare le liste di proscrizione, le liste dei sospetti, ma poi del Papa e dell'Imperatore alla maggior parte di loro importava abbastanza poco. Erano partiti pronti a rifarsi sulla base della convenienza del momento e perciò Dante nei primi tempi del suo esilio partecipa a riunioni con i capi ghibellini. Ci sono documenti firmati da una serie di capi degli esiliati fra cui per i guelfi bianchi c'è Dante e fra i ghibellini c'è il figlio di Farinata degli Uberti. Ora voi capite che anche se queste cose si facevano perché appunto non erano ideologici ma concreti, però l'ideologia a livello di propaganda contava. I guelfi neri da Firenze non fanno altro che dire a tutto il mondo vedete i bianchi che in realtà erano dei cripto ghibellini, vedete che sono diventati tutti ghibellini, abbiamo fatto bene a cacciarli fuori. In quegli anni i bianchi con Dante compreso fanno la guerra contro Firenze, il Valdarno brucia, bruciano castelli, bruciano villaggi e i tribunali fiorentini fanno processi continuamente contro questi ribelli esiliati che trattano da un lato da delinquenti comuni e dall'altra dicono chiaramente questi fanno la guerra al grido muoiano i guelfi e fra questi che secondo i guelfi neri di Firenze gridano muoiano i guelfi c'è anche Dante, il quale qualche anno dopo scrive la commedia incontra Farinate degli Uberti e decide che invece è meglio chiarire che noi alighieri siamo guelfi, sempre stati guelfi. Poi cos'altro occorre per poter fare politica a Firenze al tempo di Dante. Bisogna appartenere al popolo, a quello che loro chiamano il popolo e cioè non essere un membro di quell'elite di famiglie nobili che non lavorano, che armano cavalieri i loro figli, che vanno in giro armati a cavallo, che sanno fare la guerra, che fanno i tornei e che guardano dall'alto in basso la brava gente che lavora. Queste famiglie di cavalieri sono quelle che hanno comandato sempre nel comune. Finché a un certo punto, proprio nel 1250, quando i guelfi hanno preso il potere, a Firenze è cambiata anche la base sociale del potere. A Firenze nel 1250 per la prima volta è andato al potere il popolo. E cosa voleva dire? Era un termine che in politica loro usavano in un senso molto specifico, perché in senso generico il popolo vuol dire tutti naturalmente, ma loro quando fanno politica e dicono il popolo intendono dire il partito che rappresenta la brava gente che lavora. Dove noi forse faremmo meglio a tradurre con una parola che però è talmente del nostro tempo che uno esita a impiegarla, è anacronistica, la parola imprenditori. Il popolo è il partito degli imprenditori, nel senso più largo possibile, nel senso che ci sta dentro l'industriale della lana e ci sta dentro il venditore di formaggio che ha il banchetto al mercato. Chiunque abbia un'attività economica sua e quindi paghi le tasse è membro del popolo. Quindi non i nobili signori che vivono di rendita e che vanno in giro a cavallo armati. Ecco, loro no, i cavalieri no, le loro famiglie no, che pure sono le famiglie più importanti e più ricche della città, perché i soldi non li fanno solo gli imprenditori, queste famiglie qua hanno avuto generazioni di tempo per farli in precedenza i soldi, adesso fanno i nobili cavalieri, ma prima erano imprenditori anche loro e anche adesso queste famiglie di cavalieri non è che non abbiano le mani in pasta in certi affari, la banca è tutta in mano a loro per esempio, ma con la banca non ci si sporca le mani in bottega, chiaramente. Quindi gli imprenditori che invece in bottega ci stanno, dall'industriale al piccolo commerciante, al piccolo artigiano, considerano che il loro interesse è di muoversi tutti insieme e tenere lontani dal potere i nobili, violenti, armati, che lavorare non lavorano. Beninteso però, sia chiaro che anche i garzoni di bottega, gli apprendisti, gli operai del tessile che hanno il telaio in casa e lavorano sotto padrone accotti. Ecco, anche quelli non sono il popolo. A livello linguistico magari sì, il popolo minuto, ma il partito del popolo non rappresenta loro. Il partito del popolo rappresenta quelli che hanno un'azienda grande o piccola e quindi sono iscritti alle arti, come dicono loro, alle corporazioni dei mestieri. Quello è il popolo. E Dante è un uomo del popolo. Quando uno cerca di collocare una persona in una società è sempre difficile. In quella società lì è difficilissimo, perché è una società estremamente fluida, mobile, dove le condizioni cambiano. Però Dante è un uomo del popolo, perché non è cavaliere e non è figlio o nipote di cavalieri. Qualcuno di voi mi dirà, è cacciaguida, il trisnonno? Eh ma appunto, cacciaguida e il trisnonno è passato così tanto tempo, nessuno se lo ricorda più. Il padre, gli zii, il nonno di Dante sono uomini d'affari, popolo, senza dubbio. E che Dante sia uomo del popolo lo dimostra il fatto che nel governo di popolo lui occupa tutta una serie di posti. In qualche caso è proprio esplicito che bisogna essere plebei. Dante appartiene per ben due volte a un consiglio, che si chiamava il consiglio dei cento, che era costruito con questa idea. Specialmente quando si tratta di spendere, è bene che i provvedimenti passino innanzitutto in un consiglio dove sono rappresentati i cittadini che pagano più tasse, perché visto che sono i loro soldi che spendiamo, allora bisogna consultarli. E quindi viene inventato questo consiglio dei cento, a cui può appartenere soltanto chi paga un certo livello minimo di tasse. E questo ci conferma che Dante, senza essere straricco, ma i soldi li aveva, perché altrimenti non avrebbe potuto sedere in quel consiglio. E però, ben inteso, cittadini che pagano almeno un certo livello di tasse, ma esclusi i nobili cavalieri. La legge che istituisce il consiglio dice che i cento devono essere dei migliori e più fedeli di artefici e altri plebei. Quindi artigiani, o in senso più generale membri delle corporazioni, in generale plebei. Dante, che non è un artigiano, non è un uomo d'affari, però è un plebeo. E il trisnonno cacciaguida che era cavaliere? Qui abbiamo aperte diverse opzioni. Una, era una leggenda che correva in famiglia, a Dante gliel'hanno raccontato da bambino, è pieno di famiglie che dicono, ah una volta eravamo nobili anche noi, ecco, non ci sarebbe niente di strano. Due, il trisnonno cacciaguida c'è stato davvero. Ai suoi tempi essere cavaliere non era così prestigioso come invece al tempo di Dante e in ogni caso quella è una società fluida dove la mobilità sociale non è solo verso l'alto, ma è anche verso il basso. Potevano anche aver avuto il trisnonno cavaliere, ma il papà, il zì, il nonno di Dante non erano nobili in nessun modo. Avete notato? Per essere membri del Consiglio dei Cento bisogna essere dei migliori e più fedeli al regime di popolo. Dante è due volte in quel Consiglio, non è soltanto un plebeo, è uno dei migliori e dei più fedeli al regime. Dopodiché capite la contraddizione però, ma lui non lavorava mica? Eh no che non lavorava, perché lui era il primo della famiglia che ha deciso che tutto sommato ormai appunto a lui interessavano altre cose. Ci sono i poderi, i soldi ci sono e a lui interessa studiare, interessa comprare libri costosissimi, interessa andare a Bologna a vedere com'è l'università, gli interessa viaggiare e gli interessa a un certo punto far politica. Ah, e gli interessano i cavalli, le armi, la cavalleria e la guerra, ne parla molto spesso nelle sue opere, con tutto che non appartiene alla famiglia, alle famiglie dei nobili cavalieri, no? Però li frequenta. Dante non frequenta la stessa gente che poteva frequentare il suo padre. Dante frequenta i figli dei cavalieri, i Guido Cavalcanti, i Forese Donati e li frequenta perché è un intellettuale, ha studiato e con loro ha un terreno comune. Quello è un mondo di giovani ricchi ma anche colti, che si interessano di filosofia, che si interessano di poesia soprattutto. Scrivono sonetti e se li mandano e discutono insieme. Dante appartiene a quell'ambiente lì, che non è quello della sua famiglia. Però, però se vuoi fare politica, in una Firenze dove comanda il popolo, devi riconoscerti anche tu di popolo. Con tutto che magari in cuor tuo, anche se magari non vuosi neanche confessartelo, ma Dante in seguito, quando ormai non è più a Firenze, Dante nella Divina Commedia, come dire, lascia sfogo alle cose che pensa davvero su come è fatta la società. E lui ha una visione in realtà, come dire, molto aristocratica della società. Ce li ricordiamo tutti, no? La gente nuova e i subiti guadagni. Appunto, quella che a noi sembra una società fluida, mobile, dove tanta gente ha un'ascesa sociale, fa i soldi. Dante dice, è la rovina di Firenze questa cosa. E cacciaguida che gli dice, poveretti voi che vivete in questa Firenze, che dove c'è così, avete così tanti abitanti ormai, perché è pieno di immigrati. Ai miei tempi si stava bene, dice cacciaguida. Voi invece dovete sostenerlo puzzo del villan da guglion, di quel da signa. Ecco, i loro immigrati non venivano da tanto lontano, ma c'era chi diceva come facciamo con tutta questa gente, questi poveracci puzzolenti che vengono da signa, pensate un po'. Ecco, e dunque, e Dante pensa questo, lo fa dire all'amato trisnonno cacciaguida. E quando Dante, nei primi anni del suo esilio, scrive anche Il Convivio, che si propone come un grande trattato di insegnamento morale e politico, che dovrà aiutare l'Italia, ecco, far crescere l'Italia. E lui, questo grande trattato, a chi lo indirizza? Dice lo indirizza a quelli che sono in grado di capirlo, ai nobili. E questi nobili sono principi, baroni, cavalieri e molta altra nobile gente. Non solamente maschi, ma femmine. Naturalmente questa seconda cosa a noi ci allarga il cuore. Dante ha l'intuizione che il pubblico è gente intelligente, capace di ragionare, che influisce sulla politica a cui lui si rivolge, comprende anche le donne, non solo gli uomini. Questo ci può piacere moltissimo. Un po' bene è il fatto che comunque, però, devono essere nobili. Perché chi non è nobile e passa il tempo nel business, è inutile discutere con lui di cose serie. Le populari persone, occupate dal principio della loro vita ad alcun mestiere, drizzano sì l'animo loro a quello, cioè sono così concentrati sul mestiere, che ad altro non intendono, che non si occupano d'altro. Ecco, questo è l'uomo che per anni ha servito fedelmente il regime popolare, uno dei migliori e più fedeli plebei degno di sedere nel consiglio dei cento. Io devo dire che ho trovato veramente affascinante rendermi conto di come il monumento che per tutti noi è Dante sia stato un uomo che si è trovato invece, come dire, in una realtà, in un tritacarne, ecco, in cui per forza di cosa le pressioni erano tali che ti poteva capitare a un certo punto di fare cose che erano assolutamente contro i tuoi principi o al contrario di cambiarli quei principi. Sicuramente senza accorgertene, perché ognuno di noi, la sappiamo tutti, no? È molto facile convincerci che noi in realtà abbiamo sempre ragione, abbiamo sempre fatto la cosa giusta, ecco, è il mondo intorno che cambia e Dante era convinto davvero di avere principi, come dire, sani, giusti, retti, che lui sapeva cos'era meglio per Firenze e per l'Italia e guardava con orrore la corruzione, il disordine della politica, però poi lui in quegli anni in cui c'è stato dentro l'ha subito anche lui. Salvo dire qualche anno dopo mi ero perso, mi ero perso in un bosco buio, la strada non la vedevo più, mi stavo dannando l'anima. Dopodiché io vorrei ancora, prima di arriviarci verso una conclusione, presentare almeno uno degli interventi politici di Dante per vedere come in realtà anche dal solo fatto che sappiamo che lui a un certo punto si è alzato a parlare a favore di una certa proposta, viene fuori confermato in pieno questo profilo che abbiamo tracciato finora, di un uomo che per quel regime era un uomo fidato e che però al tempo stesso di quel regime popolare non vedeva con simpatia le eventuali aperture verso il basso, anzi. Dante, ve lo dicevo, si è alzato a parlare parecchie volte nei consigli, cinque o sei volte, non so più a memoria, forse anche sette o otto. Noi lo sappiamo perché abbiamo i verbali, loro scrivevano tutto. Se Dio vuole avevano inventato la carta, non erano più obbligati a scrivere soltanto sulla costosissima pergamena e quindi producevano, come ogni governo produce, un'enorme quantità di scartoffie, le quali non sono arrivate tutte fino a noi purtroppo, però dei pezzi ci sono. Ogni riunione di un qualunque consiglio, e c'erano riunioni tutte le settimane di tutti e cinque i consigli, si teneva un verbale dove si segnavano le proposte messe all'ordine del giorno, poi si indicava chi si era alzato a parlare e grossomodo in che senso si era espresso e poi il risultato del voto. Il voto poteva essere palese o segreto, per cose meno drammatiche a voto palese, alzarsi e sedersi e invece per le cose un po' più drammatiche non ho voto segreto, alle fave bianche e nere, ognuno va a mettere la sua fava nell'urna sul tavolo del Presidente e poi si contano le fave. Questi verbali non sono alla lettera, magari ci fosse il discorso che ha tenuto Dante, no, c'è scritto però Dante Alighieri si alzò e si espresse a favore della proposta del governo. Il primo intervento attestato di Dante si colloca in un momento che per Firenze è drammatico. Firenze ai primi di luglio del 1295 è sull'orlo della guerra civile. Vi ricordo la situazione, governo di popolo. Governo di popolo vuol dire i magnati, i nobili cavalieri, dalla maggior parte degli organismi sono esclusi, non possono essere priori, per esempio. Per essere priori bisogna essere iscritti a una corporazione e praticare un mestiere, perché noi vogliamo che quelli che comandano siano solo dei nostri, gente che lavora. Dalla maggior parte dei consigli chi appartiene alle famiglie dei cosiddetti magnati o grandi, come dicono anche, è escluso. Ma non solo, ci sono leggi punitive, che i magnati si sono meritati perché, essendo gente abituata alle armi e ai cavalli, sono abituati anche alla violenza. E se il popolo di Firenze a un certo punto ha deciso di prendere il potere, strapparlo ai nobili e escludere i nobili dal potere, è anche perché erano stufi. Perché la brava gente che lavorava era stufa del fatto che in città spadroneggiasse gente armata a cavallo che tendeva a risolvere le liti con la violenza. Allora bisogna impedire la violenza dei magnati. Sono le leggi antimagnatizie di Giano della Bella, uscite da pochissimi anni in quel momento, che sono leggi che dicono, ecco qua un bel elenco di famiglie, tutti questi a noi risulta che sono nobili, sono magnati, hanno dei cavalieri in famiglia. Se poi qualcun altro avrà dei cavalieri in famiglia aggiungeremo anche quelli alla lista. Chi ha dei cavalieri in famiglia non può fare questo, non può fare quello, non può fare quell'altro e deve versare una certa somma al governo a titolo di fideiussione, perché la prima volta che sgarra si prende una multa da levargli la pelle. E se sgarra troppo è pronta la milizia del popolo per andare a casa sua e radergli a suolo la casa e lui ingalera o peggio. Se è un magnate e fa del male o anche solo dà uno spintone o dice una parolaccia a un popolano. Finché se lo fanno i magnati fra loro facciano pure, non disturba nessuno. Ma i magnati ai popolani non li devono più toccare. Questa legge è in vigore da due o tre anni, quando i magnati decidono che non ne possono più e scendono in piazza per protestare. Però scendere in piazza è un termine che rende l'idea solo in piccola parte. I magnati sono tantissimi. Le famiglie magnatizie sono appunto non molte, 70 nell'elenco di quel momento, che già non sono neanche pochissime, ma tenete conto che ci sono famiglie che hanno 30 o 40 maschi adulti in famiglia. Sono famiglie numerosissime e molti di loro sono cavalieri e tutti sono armati e a cavallo. I magnati che scendono in piazza sono migliaia di uomini armati che scendono in piazza con i loro servitori, con le guardie del corpo, con i contadini fatti venire dalla campagna, perché i magnati hanno la campagna, hanno le terre, i castelli, occupano mezza Firenze, occupano gli accessi ai ponti, occupano mercato vecchio, dicendo il governo deve abolire le leggi contro di noi. E quando scendono in piazza i magnati con i loro uomini scende in piazza anche il popolo, naturalmente, perché anche il popolo è organizzato in compagnie armate, di quartiere, di corporazione e quindi anche la gente del popolo è in piazza, armati non così bene come i magnati, ma comunque armati dietro i gonfaloni delle loro compagnie lì a guardarsi in faccia. E fra i due schieramenti fanno la spola frati e cittadini autorevoli che cercano di mettere pace. Poi la sera di quel 5 luglio i magnati ricevono dal governo la garanzia che si proverà a far passare qualche misura a loro favore. E i magnati su questa promessa tornano a casa. Il giorno dopo, 6 luglio, i priori presentano ai consigli una proposta di alleggerimento delle sanzioni contro i magnati. Riduzione delle multe, ma poi garanzia che d'ora in poi non basterà più avere un cavaliere in famiglia per essere proclamati magnati, bisognerà averne più di due, che è già come dire uno sfoggio di bellicosità che può far paura, quindi non sarà più così facile che il governo di popolo prenda di mira una famiglia e dica a voi magnati, d'ora in poi vi segniamo nell'elenco, non sarà più così facile. E poi anche un'altra cosa che sta a cuore ai magnati e anche a molta altra gente, e cioè finora per diventare priori bisogna esercitare un mestiere. Invece il governo promette, facciamo la riforma, d'ora in poi bisognerà o esercitare un mestiere, oppure essere iscritti a una corporazione anche senza esercitarlo davvero. Perché le corporazioni sono organizzazioni labili, vaste, sono a metà appunto tra la Confindustria, il Rotary Club, il partito politico, ci si iscrive facilmente, non è obbligatorio far davvero quel mestiere lì, anzi ci sono corporazioni che tengono dentro gente che fa mestieri molto diversi, sono forme di socialità e di pressione politica e di organizzazione economica, ma molto fluide. Dunque è chiaro che il discorso è, per carità, uno che è cavaliere personalmente continua a non poter essere priori, ci dispiace, nel governo di popolo i priori delle arti, perché i priori nominano direttamente le corporazioni, e sia chiaro, Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, nominano il governo. E allora uno che è cavaliere personalmente non lo potrà fare, ci dispiace, però se c'è uno che è iscritto a una corporazione non andremo a vedere se è davvero ha un mestiere, lavora, oppure un nobile signore che vive di rendita, non importa, è un allargamento considerevole. Per la cronaca i sei priori che portano a casa questa riforma dicono i cronisti che quando escono dalla loro carica sono accolti a sassate dal popolo, dal popolo minuto il quale è impensierito per questa deriva per cui i nostri stessi capi flirtano con i nobili, ecco, e hanno dimenticato i nostri veri interessi. Erano, diranno i cronisti, erano gente che favorivano i grandi. I sei priori dunque presentano questa proposta che deve passare tutta la trafila, deve passare in questo caso attraverso quattro votazioni. Ci sono dei consigli che si riuniscono in seduta congiunta, altri da soli, quattro votazioni. E noi abbiamo i verbali di questa proposta, di questa proposta che serve a dire ai grandi vabbè il governo è di popolo certo, ma non siamo mica degli estremisti, non siamo degli estremisti come il popolo minuto, no, noi vi capiamo benissimo e tutto sommato vorremmo smettere questa guerra fra il popolo e i nobili, perché a noi che siamo popolo, ma la parte migliore del popolo, ecco, a noi in fondo noi tutta questa ostilità verso voi nobili non ce l'abbiamo. Deve passare attraverso quattro consigli di questa cosa. E i verbali sono straordinari perché in ogni consiglio succede la stessa cosa, viene presentata la proposta del governo, tal dei tali si alza e parla a favore, poi si vota e la proposta passa. Voi capite? Bisogna gestirli i consigli, certo, bisogna gestirli. E in quel caso lì però vogliamo essere sicuri che non si alza uno a dire chissà cosa, no, 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 in ogni consiglio parla uno solo e parla a favore e quest'uno solo che parla non l'avranno scelto a caso, evidentemente. Nell'ultimo consiglio, il più allargato, il Consiglio Generale del Comune, quello che si alza a parlare a favore della proposta del governo è Dante Alighieri. Questo è il primo intervento di Dante da noi conosciuto nella politica fiorentina. È un intervento di un uomo che il regime al potere considera evidentemente assolutamente sicuro, un uomo che sta servendo un governo di popolo, che però lui personalmente non lavora, vive di rendita e ha tanti amici fra i cavalieri ed è l'uomo che viene scelto per far passare la proposta che deve, come dire, ridurre un po' la tensione, ecco, fra il popolo e i nobili signori. E fra l'altro lui è uno di quelli che approfitteranno poi della nuova deroga che è stata concessa, perché fino a ieri se vuoi diventare priore devi esercitare un mestiere. Poi per carità anche l'industriale della lana esercita un mestiere, non stiamo dicendo che devi essere un artigiano, però devi esercitare un mestiere, avere dei capitali investiti nei traffici, se no non ci fidiamo. Ma con la riforma che Dante ha contribuito a far passare, diventa possibile iscriversi a una corporazione pro forma e diventare priore lo stesso se riesce a arrivarci. E Dante lo fa. Dante è una delle notizie più curiose che tutti abbiamo studiato a scuola, tutti Emanuele lo dicono ed è quella cosa un po' incomprensibile. Dante si iscrive alla corporazione dei medici e speciali ed è una cosa su cui gli studiosi si sono sempre rotti la testa. Perché un po' ingenuamente pensavano che ci dovesse essere un qualche rapporto con la corporazione a cui ti iscrivevi. E quindi è venuto fuori di tutto, tra il dire sì no perché i medici, all'epoca i medici erano dei grandi intellettuali, avevano una formazione filosofica, Dante aveva una formazione filosofica e quindi chiaramente, ecco. Oppure qualcun altro che dice, attenzione, gli speciali, anche i pittori si iscrivevano a quella corporazione lì, perché i coloranti, materia prima indispensabile che tutti i pittori maneggiano, fanno parte della categoria merciologica delle spezie, sono venduti dagli speciali. Ora Dante, noi sappiamo da varie testimonianze, tra l'altro lo dice anche lui stesso, che sapeva disegnare e quindi si è iscritto a quella corporazione lì perché si considerava una specie di pittore. Sono tutte cose un po' comiche. A quel punto verrebbe la pena di ricordare che la corporazione in realtà era la corporazione dei medici, speciali e merciai, cioè di quelli che vendevano ogni sorta di merci al minuto, capite perché vi dicevo che non sono così precise e rigorose queste corporazioni nel loro legame con il mondo economico. In realtà un discorso c'è, anche gli speciali sono una specie di merciai ma specializzati e a quel punto ci mettiamo dentro anche tutti gli altri che hanno bottega e vendono merci minute, tra cui la carta, per cui i cartai appartengono a quella corporazione e i copiatori di manoscritti appartengono a quella corporazione e chi vende libri appartiene a quella corporazione. Allora uno potrebbe anche dire Dante si è iscritto a quell'arte lì perché gli interessavano i libri e andrebbe altrettanto bene, ma la verità è che ti iscrivi a una corporazione perché ti devi iscrivere, perché se vuoi arrivare ai vertici della politica devi essere iscritto e tutti sanno perché l'abbiamo messo nero su bianco che essere iscritto non c'entra niente col fare davvero un mestiere. E dunque Dante a questo punto ha tutte le carte in regola per arrivare ai vertici del governo fiorentino ed è uno dei sei priori che governano Firenze per due mesi dal 15 giugno al 15 agosto dell'anno 1300, cioè precisamente poco dopo che lui nel suo ricordo dirà mi stavo dannando l'anima e mi ero perso nel bosco buio. Tante priore per due mesi e a noi sembra una durata ridicola, ma il passo degli avvenimenti politici era frenetico in un comune italiano. Non sempre, ma poteva essere veramente frenetico. In quel momento era frenetico. Perché? Perché anche i Guelfi si erano spaccati in due correnti rivali. Ormai, capite, è inevitabile, i nemici ghibellini non ci sono più. Parte Guelfa fa finta che ci siano sempre e fa gli elenchi dei sospetti ghibellini, ma tutti sanno che non è vero, non sono un pericolo i ghibellini. E dunque non ci sono più nemici e quindi ci spartiamo pacificamente i posti di potere e gli appalti? Naturalmente no, la politica umana non è fatta così e quindi ci spacchiamo perché li vogliamo no. Io e i miei amici vogliamo gli appalti e non tu e i tuoi amici, siamo tutti Guelfi, certo, tutti Guelfi per carità, ma si spaccano. Ci sono due grandi famiglie, i cerchi e i donati. Tutte e due abitano nello stesso quartiere di Dante, nel sesto di Porta San Piero. Sono due grandi famiglie molto diverse fra loro. I donati sono nobili antichi, sono davvero gente che da generazioni non si occupa d'altro che di far la guerra e non sono così ricchi. E loro sono i capi dei Guelfi neri. Invece i Guelfi bianchi sono capeggiati dai cerchi che sono straricchi, sono grandi banchieri, hanno la banca forse più potente di Firenze, però sono gente che si è fatta da poco. Anche loro ormai sono cavalieri e tutto quanto, per essere grandi bisogna vivere in quel modo lì, ma tutti si ricordano che mentre i donati sono grandi da tanto tempo, i cerchi sono venuti su da poco e i cronisti lo dicono, si vedeva, stanno parlando degli uomini più ricchi di Firenze, si vedeva che non erano tanto capaci a stare al mondo, non avevano ben imparato a far politica come si deve, a farsi delle amicizie, a farsi una rete di si... che non erano tanto capaci i cerchi, però erano talmente ricchi che aspiravano a dominare in città. E dunque ci sono due fazioni, ci si deve schierare. E Dante si schiera con i cerchi. E i cerchi all'inizio prevalgono. Sono stati fatti studi complicatissimi, andando a vedere tutti quelli che sono priori o membri dei consigli in quel momento e poi andare a capire di ciascuno con chi stavano quelli lì in quel momento. Firenze è una città immensa per l'epoca e la documentazione conservata in archivio è gigantesca, è faticosissimo orientarsi, però alla fine, bene o male, dopo generazioni di lavoro, si è arrivati abbastanza a capire. Verso l'anno 1300 i bianchi stanno vincendo, i cerchi stanno vincendo e il grosso dei priori e degli incarichi importanti vanno ai loro. Peccato che Papa Bonifacio VIII, che sarebbe il gran capo del partito Guelfo, perché il partito Guelfo è una struttura internazionale, la parte della Chiesa e il Papa da sempre è il punto di riferimento a livello mondiale, diciamo così, dei Guelfi. A Papa Bonifacio VIII i cerchi non piacciono, perché lui fa affari con degli altri banchieri, finanziare la Chiesa romana è forse l'affare più enorme che i banchieri fiorentini stiano facendo in quel momento e Papa Bonifacio VIII è legato ad altri banchieri, agli spini, agli scali, che sono neri. E dunque i bianchi al potere a Firenze si accorgono che il Papa non li trova simpatici e che sostiene sotto banco i loro nemici e sono molto spaventati. C'è un momento in cui Dante si espone moltissimo, perché è arrivata una richiesta del Papa ai suoi fedeli amici, i Guelfi di Firenze, di mandargli dei cavalieri a sostenerli in una certa guerricciola che ha da qualche parte contro i conti Aldobrandeschi, in Maremma, ecco. Il Papa chiede un aiuto e quella è una delle volte, per una volta in cui in un consiglio si discute davvero, per una volta non è una cosa già organizzata dal regime, lì davvero sono incerti su cosa fare e lì Dante si alza e disse che della cosa chiesta dal Signor Papa non bisognava farne niente. Lì è la volta che Bonifacio VIII se l'è segnato sul libro nero, ovviamente, perché gli avranno subito riferito. Fatto sta che i bianchi appunto non sono in buoni rapporti col Papa e Dante è in quota bianchi. Però poi il Papa a un certo punto dice questa lotta fra bianchi e neri non mi piace, ragazzi, dovete mettervi d'accordo, ve lo dice il Papa. E come si fa a dirgli di no? Quindi il Papa manda il Cardinale Matteo d'Acquasparta a Firenze con l'incarico di mettere pace. E i bianchi si dicono ma ci possiamo fidare, viene davvero a mettere pace. Qualcuno dice guardate che non viene a mettere pace, il Papa l'ha mandato a sostenere i neri, finirà molto male, però nessuno osa dirlo apertamente. Quando nominano i priori del 15 giugno, il Cardinale è già a Firenze da un po', sta negoziando e il Governo cerca di dare un segno di fiducia. Mettono su sei priori equidistanti, due bianchi, due neri e due neutrali. In quota i bianchi c'è Dante, che quindi arriva al massimo incarico della sua vita politica, in questo momento estremamente drammatico, in cui il Cardinale in teoria è venuto a portare pace fra le due correnti, ma in realtà il suo mandato è di portare al potere i neri e rovinare i bianchi. La cosa a qualcuno è talmente evidente che, racconta Dino Compagni, a un certo punto qualcuno di non molto senno, dice il cronista, tira un colpo di balestra al Cardinale che se ne stava affacciato alla finestra. Prende l'imposta della finestra, per fortuna. Però il Governo è costernato, bisogna scusarsi col Cardinale. I priori, fra cui Dante, decidono, mandiamo un regalo al Cardinale. Sì, mandiamogli un regalo. Gli mandano un regalo, un piatto con duemila fiorini d'oro appena coniati, due milioni di euro. Dice Dino Compagni, il Cardinale molto li guardò e rispose che li avea cari e non li volle. Qui dice questo eroico Cardinale che rifiuta il regalo, però voi capite Dante e Priori in un momento in cui succede che c'è il Cardinale e cercano di ammazzarlo. E noi dobbiamo rabbonirlo, lui e il Papa. E poi i grandi, che sono in tumulto perché pensano che ci sia l'occasione per il colpo di Stato e buttiamo giù anche il Governo di Popolo, aggrediscono i consoli delle arti per la strada, il giorno della processione di San Giovanni, bastonandoli per la strada. E i priori devono decidere cosa facciamo. Facciamo finta di niente? La mandiamo giù? Oppure prendiamo misure pesanti? Alla fine decidono, e Dante è uno di loro, decidono misure pesanti. In esilio un certo numero di capi, sia dei bianchi sia dei neri. Fra i bianchi mandano in esilio Guido Cavalcanti, il migliore amico di Dante, che in esilio si ammala e muore. Torna a Firenze in tempo per morire. È Dante che l'ha mandato in esilio. Non ci ha mai detto in nessuna sua opera che effetto gli abbia fatto dover fare questa cosa. E poi però prevale lo spirito di fazione. Alla fine i bianchi, spingi, spingi, ottengono dai priori il permesso di rientrare. Loro lasciano rientrare gli esiliati bianchi e non lasciano rientrare gli esiliati neri. E Dante è uno di quelli che prendono questa decisione. E poi, se Dio vuole, i due mesi scadono, e Dante non è più priore, ma continua a ricevere altri incarichi importanti. Lo mandano ambasciatore a Bonifacio VIII, che non sembra la scelta più saggia che si potesse fare, ma tutto quello che sappiamo dei bianchi è che appunto non erano particolarmente saggi. Mandano a Bonifacio VIII uno che si è appena esposto parlando contro la sua proposta. E mentre Dante è a Roma, crolla tutto. Perché i neri fanno davvero il colpo di Stato. E glielo fa fare Bonifacio VIII. Perché c'è un principe francese che è venuto in Italia con un esercito per andare a conquistare la Sicilia, e invece il Papa gli suggerisce, come dire, di fermarsi un momento a metà strada a Firenze per mettere pace. E le truppe francesi entrano a Firenze e mettono pace. Lasciano rientrare i neri in esilio, i quali cominciano ad ammazzare e a bruciare le case dei loro nemici, e i bianchi scappano. E Dante, che è a Roma, viene a sapere di quello che è successo, torna indietro. Lo fermano prima che entri in città. Gli gli dici, guarda, lascia perdere. Non tornare. E lui non torna. Non ci tornerà mai più a Firenze, come sapete. E poi chiudo brevissimamente, ma è importante anche questa cosa. È chiaro che qui è una fazione che ha prevalso sull'altra, con la violenza, nel modo più spudorato. Però poi questa fazione dei neri al potere vuole dare l'impressione di fare le cose in modo pulito. Abbiamo cacciato via un sacco di gente che è scappata dalla città, però adesso andiamo a vedere quelli che veramente si meritano un processo perché hanno avuto delle colpe di cui rispondere. E si comincia ad aprire una serie di processi per baratteria, come dicono loro, che è una parola omnibus che vuol dire concussione, corruzione, abuso d'ufficio, storno di fondi pubblici, peculato, interesse privato. Loro hanno un'unica parola. La baratteria. Dante odia i barattieri e nella commedia li mette nel fondo dell'inferno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.